...della volta che invece benvenisce di partire gran parte del concorso... ...como qua, un ricadone di attività... ...all'epa, all'epa, all'epa... ...degu' di piano, forte, da qui all'est... ...in questo 27, domenbre 2018... ...alora adesso il grande... ...vegli e col testo del 8... ...la gara, un'epa... ...degu' di go... ...i primi e segui... ...i governetti tra poco... ...un spettacolo di Solviate con... ...la famofissima scalinata... ...anche pure... ...le avete contati? ...le avete contati? ...no? ...allora... ...fumplico... ...il pico e l'aspico corretti... ...yeah! ...quisto... ...arriva, arriva... ...eccolo! ...dai, dai, dai, Massimo, vai! ...dai, dai, dai, Massimo, vai! ...dai, dai, dai, Massimo, vai! ...butta giù il dente! ...dai, Ivan, vai! ...dai, Ivan! ...dai, Ivan, vai! la scalinata è il primo di tre passaggi su questo inferno lasciato da un sole quest'oggi dai 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 la maglia team manco violante terza posizione assoluta arriva il gruppo all'interno Ridiculous team ad affrontare la scalinata famosissima, dissolviate l'ora dai ragazzi il primo passaggio ci siamo vai 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 andate bene te allo il gruppo abbiamo visto anche Gianluca Longoni dai ragazzi la scalinata di Solviate da affrontare e vincere vai andre vai andre vai vai andre vai andre vai 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 andre vai vai andre dai Massimo vai 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 dai dai sono stati anche i primi a partire arrivano anche gli M6, M7, M8 Massimo Rizzo affronta la discesina dopo la scalinata Patrizio Baggi ci siamo vai ragazzi salita e discesa salita e discesa attenzione attenzione alla piccola radice saltiamola saltiamola dai 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 I vari circuiti Igor Pianù Alla chiamata della scalinata Chissà quanti che l'hanno L'hanno sognata E oggi Eccola tutta per voi Da affrontare Manuela dalla pietà Loris Bike Vai 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 Forza ragazzi Forza forza La prima è fatta Mi raccomando abbiamo le zone pubblico dedicate Noi vogliamo il tifo Vogliamo il tifo e i nostri concorrenti Dai 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 Si comunicano tre giri In totale Forza forza Dai 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 Sì sì dai Giù Dai 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 Vai Giù 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 Dai ban Dai 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 Aì! 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 Dai Mazzimo vai! Vai! Vai lui! Dai! dai ragazzi dai 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 hola dai 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 ragazzi dai oh dio dai 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 ma dai hola Ivan veramente numero uno ormai questo dai Ivan vai vai che doppiato forse 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 ma quello è impossibile perché li controllano qua secondo me bravo dai forza forza forse 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 forza forza dai dai metà gara oh si è fatta male lei dai vai dai dai metà gara già dai 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 pensai in 4 dio dopo dai forza dai 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 forza dai massimo vai dai massimo dai vai no adesso un po' come hai trovato questo percorso spettacolare intanto abbiamo il passaggio di Marco Fiolante terzo classificato della tua fascia dunque testa, moda e violante questo forno allora Ivan come è andata? allora non è stato qua a la regia assolviata mi ha sempre detto che la gara era bellissima e stamattina infatti quando l'ho provato si è partito ampio e poi molto tecnico dopo si sono smolato le contropendenze e mi è andato abbastanza difficile qual è il punto più impegnativo di questo corso spettacolare? ma sicuramente la... magari diciamo la scalinata diciamo la scalinata la scalinata c'è la rio con questa vita che chiedono pietà grazie Ivan ti lasciamo andare ricordo subito la premiazione dei master di fascia 2 e fascia di Giovanni Ternago che è la canna gruppo e quindi attendiamo anche il vincitore della fascia 3 con un link a caldo prima di trasferirci nella zona premiazione lasciare la matta e le atleti che poi nella zona premiazione il podio è terminato il percorso è trattina e chiude anche con il 213 massimo di zone con il 240